Benvenuti e bentornati a Persone, un programma di scienza e di cultura che incontra appunto delle persone che hanno delle competenze, delle conoscenze su determinati temi. Oggi il tema che affrontiamo è la gratitudine e la felicità e lo facciamo con un filosofo, Giuseppe D'Accunto, professor Giuseppe D'Accunto, che è docente di filosofia in diversi istituti, tra l'altro anche alla UPTE di Roma, e col quale abbiamo già imbastito, prima della trasmissione, un ragionamento sia sulla gratitudine e sia sulla felicità. Sono temi che per noi a volte rappresentano un po' un'utopia, sia l'uno che l'altra, perché spesso diciamo, professore, diciamo spesso che fai un bene, fai del bene e poi ti devi dimenticare di averlo fatto, perché la gratitudine è un bene prezioso e se non raro. Che cosa ne pensi, che cosa ne dici? Beh, io partirei molto semplicemente dalla ricerca di una definizione, come sempre si fa in filosofia, diciamo una definizione però che abbia un profilo filosofico, se sia filosofica, però che sia anche allineata in qualche modo con il senso comune. Allora, in questi casi di solito si va a pescare in autori antichi, sapienti. Ecco, mi è venuto da andare a pescare una definizione di partenza della gratitudine in un filosofo cinese, pensate del 600 a.C., Lao Tse o Lao Tzu, come si dice. Appunto, in lui ho trovato, ripeto, una definizione della gratitudine, ripeto, filosofica ovviamente, di una filosofia appunto quale il taoismo, che appunto di cui è stato fondatore, Lao Tzu, di una filosofia che appunto ha inteso tenersi al passo con il senso comune. Ecco, quindi, e allora ho trovato questa definizione. La gratitudine è la memoria del cuore. E come possiamo articolarla meglio? È memoria del cuore nel senso che è ciò che ci appunto ci rende atti, diciamo così, a tenere a mente, a ricordare tutti quei gesti di appunto amore gratuito che noi abbiamo dispensato agli altri, ma che soprattutto gli altri hanno dispensato a noi. Ecco, quindi partirei da questa definizione. Poi c'è da sviluppare il nesso tra i due temi che abbiamo scelto. Aspetta, prima di questo, ma recentemente il professor Demetrio, dell'Università Bicocca di Milano, ha pubblicato proprio un libro, in realtà non sulla gratitudine, ma del suo contrario, cioè l'ingratitudine. Tra l'altro noi abbiamo avuto modo di discorrere con Demetrio. In realtà la questione della gratitudine si mette sempre un pochino da parte, l'aspetto positivo, perché quello che prende il sopravvento negli uomini, nelle persone appunto, è invece il contrario, il senso di ingratitudine per quello che è stato fatto per loro. E siccome è un sentimento popolare molto forte, perlomeno io lo percepisco tantissime volte quando si dialoga con le persone, è molto molto presente, è bella la citazione che hai fatto, perché chiaramente la passione, quello che c'è dentro, quell'amore che tu hai dentro, a un certo punto deve essere anche un po' risvegliato, deve essere anche un po' toccato. Però sappiamo che molto spesso questo non accade. Ma secondo te, perché le persone tendono a dimenticare di aver avuto un atto di gratitudine da parte di un'altra persona? Perché tendono a dimenticarlo? Allora, mi fai pensare proprio al modo in cui inizia questo libro, di cui appunto anche dobbiamo parlare un po', perché è uscito l'altro anno, quindi, allora, Demetrio, appunto, a parte che inizia proprio dicendo tutti siamo affetti dal morbo dell'ingratitudine, tutti, prima o poi, inizia proprio così, quindi ci fa capire che la fatica sta proprio nell'espungere il più possibile, nell'emendare questo morbo che ci visita tutti. Poi, diceva Demetrio sempre, perché appunto è un libro veramente che io, la cui lettura consiglio a tutti, molto ricco, che appunto la difficoltà sta non tanto a non riconoscere i favori che ci sono stati erargiti, ma non riuscire a sopportare il peso della gratitudine, lui dice, no? È un peso, una fatica in qualche modo, ecco, e forse è questa, è qui sta la... È nella parola tua che hai detto, è sta nella riconoscenza. Nella riconoscenza, infatti sono termini. Perché è la riconoscenza che diventa molto peso, perché le persone, è come se perdessero la propria autonomia quando fanno quello, lo dico, io ho raggiunto quel risultato in quanto praticamente tu mi hai agevolato. Esattamente. Ammetterlo non è facile, tocca le corde narcisistiche della persona, prendiamoci chiaro, no? Quindi la persona diventa scontenta di dover riconoscere tutto questo. Sì, forse qui sta la difficoltà maggiore, ecco, mi allineo con Demetrio su questo punto, e lui richiama Seneca, ecco, in questo luogo dove parla, e dice che proprio Seneca ha riconosciuto questo. Il primo riconoscimento in merito viene da Seneca, circa la difficoltà dell'uomo di non riuscire a reggere il peso della gratitudine, ecco. Ma questo capita spesso anche tra maestro e allievo. E allievo. Perché questa è un'altra condizione che si crea molto spesso, dove, molte volte si dice, no? Sì. L'allievo ha superato il maestro. Ha superato il maestro. Però di fatto non è mai gradevole quando accade questo, sono pochi maestri che possono accettare questa cosa. Esatto. Però ci sono anche molti allievi che per poter superare il maestro devono fare delle azioni di ingratitudine. Capita molto spesso. Io ho avuto modo di vedere che l'allievo, la persona, il discepolo praticamente, a un certo punto deve quasi disconoscere per affrancarsi e per diventare più forte rispetto al maestro. Questo è un tema, credo, non solo della filosofia, ma proprio delle relazioni umane. E' stato sempre così in filosofia, se no, appunto, non studieremo filosofi, dico sempre, no? Studieremo ripetitori dei maestri. Tutti hanno avuto un maestro, però li studiamo perché poi hanno preso una via personale, autonoma, eccetera. Se no, studieremo dei ripetitori. Ecco, questo è un po' la logica della filosofia. Non pensi che nel momento in cui una persona riconosce e dice, guarda, io ti sono grato per questa cosa, nell'altro crea anche un momento di felicità, di contentezza? Se penso, cosa penso riguardo? Sì, ecco, sì, dovrebbe essere, dovrebbe essere proprio un, dovrebbe trasmettere all'altro una pienezza, no? Che appunto emana da noi e che l'altro è capace di recepire in quanto tale, assolutamente. Quindi questo riconoscimento praticamente crea. Forse questo è uno dei collegamenti che abbiamo con la felicità. Sì, ce ne sono parecchi, sì. Vogliamo vedere come noi possiamo prendere in mano anche la questione della felicità. Sì. Anche in questo caso, forse tu hai una definizione filosofica. No, no, però mi sono interrogato, appunto, in vista di questo incontro, appunto, sul possibile nesso tra, dicevamo, gratitudine e ricerca della felicità. E beh, mi è venuto in mente questo, che innanzitutto, da più parti, la gratitudine viene indicata come il fattore dimenticato nella ricerca della felicità. Perché? Ora, pensiamo a una cosa molto semplice. A quante volte noi, nel corso di una giornata, diciamo grazie? A quante volte, appunto, esprimiamo formule di gratitudine, anche solo formale, eh? Io penso al grazie quando ci viene servito il caffè al bancone del bar. Ecco, quante volte lo facciamo? Ora, questo, cosa deve farci pensare, secondo me? Quanto è importante, diciamo, la coltivazione quotidiana della gratitudine. L'esercizio continuo, l'allenamento ininterrotto. Perché? Perché in questo modo, secondo me, la gratitudine contribuisce a consolidare in noi un abito. L'abito della felicità. Ecco, tra l'altro, l'idea intorno al cui ruotano le mie riflessioni è proprio questa. La felicità come un attimo. Come un abito. Io non sono abitato a pensarla come un attimo. Lo diremo dopo meglio, magari, no? Qualcosa legata all'attimo. E' un abito. E' la costruzione di un abito che deve essere, appunto, consolidato, solidificato in noi. Ecco, allora, l'esercizio quotidiano, la coltivazione quotidiana della gratitudine, solidifica in noi quest'abito. Cioè, innanzitutto, ci aiuta a capire che la felicità non è un qualcosa di straordinario. Perché noi siamo abituati a pensarla come un qualcosa di straordinario che a un certo punto cade dal cielo. L'esercizio quotidiano ci abitò a pensarla come qualcosa che si traduce in una pratica, appunto, ordinaria di vita. E poi trovo l'educazione, la coltivazione quotidiana ci può, appunto, aiutare a pensare alla felicità come un qualcosa, appunto, di gratuito. Che non ha un perché, no? Di immotivato. Ecco, io penso che... E' fortuito. E' fortuito, che dipende dalla fortuna. Molte volte uno dice... Sì, ma non da fuori di noi. Ecco, questo è importante, perché, ripeto, noi siamo abituati a pensare alla felicità come stavo dicendo prima. Un qualcosa di straordinario come un qualcosa che non dipende da noi, no? Che viene da fuori. Invece, questa pratica, questo esercizio quotidiano ci aiuta a pensare alla felicità come qualcosa che fa centro in noi stessi. Ecco, ci aiuta a costruire questo centro del sé, quello che qualche psicologo chiama il sé. Diciamo che una persona si dichiara felice quando sta vivendo o ha vissuto quella felicità. Dici benissimo. E' chiaro che per raggiungere quella condizione ha dovuto superare degli ostacoli. Dici benissimo. E gli ostacoli molte volte sono le sofferenze. Si può avere la felicità senza sofferenza? No, perché è la sofferenza che ci fa percepire. Questa è una cosa... È fondamentale. ...che dice appunto Salvatore Natori. Salvatore Natori. Che è un altro autore che vogliamo richiamare oggi, filosofo italiano. E dice che quando percepisci la felicità? Proprio nello stato di mancanza. E tra l'altro questo è indicativo perché ci fa capire come la felicità è uno stato, condizioni originarie rispetto alla mancanza, al dolore, alla sofferenza. Più originarie. Va bene, quindi lo percepiamo nel momento della mancanza, la felicità. Ascolta questa storietta. Stavo in treno e a un certo punto avevo dei ragazzi, dei ragazzi napoletani, era il treno quello con gli scompartimenti. E non so, si va in una discussione e dico a questi ragazzi, guardate, erano napoletani, guardate che non si cresce, non si diventa adulti se non c'è la sofferenza. I ragazzi però mi hanno detto, sì però ho capito, sarà pure vero, ma perché tocca sempre a noi soffrire? Quindi la gente che non percepisce, non sente questa fortuna, tra virgolette, perché i greci parlavano anche che c'era una componente, chiamiamola così, casuale. Casuale, casuale però nel senso nostro. Certo, certo, certo. Allora, a quel punto è chiaro che nei momenti in cui tu hai questa opportunità devi saperla, come dire, prendere, no? Devi saperla cogliere. E questo è anche la maturità della persona probabilmente conta. Il tema del carpe diem, del cogli l'attimo. Eh, il cogli l'attimo però è una cosa, come dire, strumentale. Io approfitto di quello che il convento mi passa, diciamo, no? Sì, sì, no, tu dici molto bene perché... Il carpe diem è questo, e non voler riflettere molte volte su un programma, su un progetto, su un qualcosa di più avanzato che mi porta a costruire, ovviamente, non dico la felicità, ma comunque un mondo più bello dove io mi posso ritrovare. Questo introduce un argomento, Giuseppe, noi ci conosciamo, quindi ci chiamiamo per nome. L'argomento del tempo, perché la felicità è caratterizzata sempre dal tempo, nel senso che quando sono felice io non ho mai la sensazione del passare del tempo. Esatto, non si percepisce il tempo. Non si percepisce. Quando tu puoi dire io sono felice quando mi accorgo che il tempo da quel momento non si misura. Il tempo pesa quanto ci annoiamo, ad esempio, no? Nella condizione della noia si sente. Il tempo non passa mai, come si dice. Eh, a volte ci capita di andare ai convegni, no? Che sono terribili, fortemente noiosi. Cioè, un'ora di quella roba lì sembra due giorni, no? Quindi è evidente che è il contrario. Quindi il tempo, la felicità, non ha il tempo. Sì, non è il tempo. Non è il tempo. A me è stata una grande scoperta quando l'ho sintetizzata, l'ho letta per la prima volta, no? Infatti, pensa soltanto anche mitologicamente. Contro di vista mitologico, la felicità è legata sempre a una condizione edenica, no? In tutte le mitologie, no? Quindi, la condizione edenica è una condizione senza tempo, in cui il tempo non scorre. Certo. Non scorre. O è una pienezza assoluta, o è l'esperienza di una pienezza assoluta. Senti, è una persona ricca, una persona molto ricca, che ha tanti soldi. Sì. Secondo te è automaticamente felice? Beh, questo è il vecchio adagio, no? I soldi possono, non fanno la felicità, ma possono aiutare molto a, no? In quel senso. Ecco, non metterei delle pregiudiziali. Ecco, non mi sentirei di mettere delle pregiudiziali. Però secondo te, se uno è avaro, è così o non è così? No, io ti voglio stimolare su questo. Se uno è avaro, hai il presupposto può diventare felice? No, no, hai parlato di avarizia, quindi di un morbo, diciamo, che affligge l'anima, non hai parlato di, appunto, di un, no? Quindi una persona avara ha più difficoltà, è più difficile per lui diventare felice. Assolutamente. Quindi una persona generosa, per converso, invece ha più facilità di essere felice. E sì, perché, come dicevo, come si consolida quell'abito a cui faccio facendo, esercitando azioni in quel senso? Come si diventa buoni? Facendo azioni buone? C'è poco da fare, no? No? Scusa se vado su argomenti che non c'entrano con la filosofia, ma c'entrano più con la politica. Sì. Ma questa cosa che addirittura la Costituzione americana... Sì, il diritto alla felicità. Eh, che c'è questo diritto alla felicità per i cittadini, che poi magari anche lì non applicano la Costituzione, insomma, magari sarà vero, no? Allora... Però l'hanno scritto. Sì, la Costituzione, la dichiarazione di indipendenza del famoso 4 luglio 1776, se ricordo bene, Ebbè, appunto, viene sancita questo diritto universale, questo diritto dell'uomo alla felicità, al perseguimento di esso, oltre che alla libertà, eccetera, eccetera. Ora mi viene in mente di aver letto a suo tempo un'osservazione sempre molto puntuale di Umberto Eco, no? Che è anche il caso di ricordare in questa occasione. Umberto Eco diceva, certo, caspita, è importante questa dichiarazione, perché è il primo documento in assoluto al riguardo, però, ha prodotto negli equivoci. Lui diceva, in un articolo che pubblicò sull'Espresso, se ricordo bene, nello spazio che teneva lì. E diceva, equivoci, cioè, alimenta, promuove un'idea di felicità come felicità esclusivamente personale. Eh? Non come felicità del genere umano. E poi non prescrive, come obbligo, quello di diminuire il più possibile il tasso di infelicità. Ecco, questo dovrebbe avere come rovescio il diritto alla felicità. L'impegno di diminuire il più possibile, no? Il tasso di infelicità, no? Anche nostra, capito? E qui sarebbero gli equivoci, secondo Umberto Eco, qui avrebbe prodotto degli equivoci quella dichiarazione di indipendenza americana. Ma secondo te, gli italiani, li classificheresti che sono propensi alla felicità, oppure vanno incontro all'infelicità? Come giudicheresti il comportamento che registriamo, diciamo, negli italiani? Beh, il contesto geografico dell'Italia è proprio, no? È ideale per costituire uno scenario della felicità, no? Quindi io penso all'italiano come un popolo naturalmente felice, naturalmente felice. Però è un popolo che trova lamentele su qualsiasi cosa, è il contrario della felicità la lamentela. Se io mi lamento sempre, a volte ha ragione, ma molte volte non ha ragione, annulla automaticamente la sensazione di felicità. Sì. Quindi la rabbia che monta una persona che si lamenta non costruisce felicità, semmai il contrario lo fa sentire più triste. Quindi per questo ti dicevo che percezione hai, perché io ho questa sensazione molto spesso di persone che si lamentano anche di cose che vanno bene, proprio perché hanno preso ormai un ritmo. Esatto, è un costume che si è solidificato in senso opposto a come dovrebbe essere, capito? E non potrebbe essere la paura che le cose appunto vanno male, le situazioni diciamo che abbiamo non permettono di sperare in un futuro migliore e quindi le persone entrano in questo ruolo, in questa maschera? Per me rientra in quello che dicevo prima, è come se si ludessero che la felicità la si può programmare nei minimi dettagli, no? In qualche modo loro lavorano in quella direzione. Invece dobbiamo educarci appunto a pensarla come, diciamo, qualcosa di gratuito. Viene, non viene, se viene... Ma ci sono dei, secondo te, dei momenti... Quindi c'è un... Eh, scusa? Ci sono dei momenti di felicità che noi potremmo definire un po' universali, che troviamo in più persone? Sì, probabilmente quando non ce ne rendiamo conto, no? Non ce ne rendiamo conto. C'è questa bella frase di Agostino sul tempo, no? Non so, l'avrete sentita. Quando non me lo chiedono so che cos'è. Quando me lo chiedono non so che cos'è. Ecco, si potrebbe, mi veniva in mente, applicare anche alla felicità. Quando mi chiedono che cos'è la felicità non lo so. Quando non me lo chiedono lo so, perché lo sto vivendo, ci sono dentro. Ma a volte noi non potremmo capire che cos'è la felicità senza le parole. Dalla postura, di come si presenta la persona. Oppure, pensando ad alcune situazioni, penso a una nascita. Sì. La nascita di un figlio. Cosa è un figlio. Desiderato, ovviamente. Non quello non desiderato. Quindi non accidentale. Voluto. Ebbè, è evidente che in quella condizione si crea una comunione di felicità tra quelle persone. E penso che sia un'esperienza, tutto sommato, universale che va al di là delle culture di appartenenza. Sì. Quindi ci sono dei momenti, delle condizioni che noi potremmo definire universali di felicità. E' quello che dicevo prima. E' quello che dicevo prima. educati in questo senso. Ecco la difficoltà a cui accennavi prima. A cosa forse è dovuta. A non essere educati è un'idea di felicità universalmente umana. Lì, diciamo, si mischia anche il dato politico. Sì. Politico o biopolitico, come si dice. Io ho pensato sempre che mentre noi in Italia facevamo le guerre di risorgimento. Sì. E quindi eravamo concentrati sull'unità d'Italia, gli eroi, anche nello studio poi successivo, in maniera contemporanea, io ci ho pensato da grande, in maniera contemporanea negli Stati Uniti abolivano la schiavitù, che era sicuramente una condizione di infelicità cronica e difficile. Ma nello stesso tempo enunciavano nella loro costituzione questa cosa. Una cosa veramente bellissima, devo dire, dal punto di vista politico e anche di sviluppo della democrazia in un popolo. E questo ci dovrebbe, a volte la storia, andare a trovare questi argomenti ci aiuterebbe molto a vivere anche meglio, diciamo, anche nel nostro paese, chiaramente. Ma ritornando un po' indietro, ma Epicuro, come la mettiamo? Epicuro è perfettamente in linea con quello che ho detto io, no? Nel senso che la mia idea di felicità, di anni che mi sono formato, che sto tornando a esporre, me la sono, formata proprio leggendo la famosa lettera della felicità di Epicuro, riflettendoci su, no? Lui dice una cosa molto bella, che praticamente è molto semplice essere felici. Basta prestare ascolto ad una voce che solitamente noi tacitiamo, la voce incorrotta della natura, no? La natura sa benissimo di cosa abbiamo bisogno, prima ancora che noi ci riflettiamo. Infatti, dice Epicuro, abbiamo bisogno di poche cose per essere felici, di pochissime cose, no? Quindi, quindi, prestare ascolto, educare, educarci a prestare ascolto alla voce, a quella che Epicuro chiama la voce della natura, possiamo chiamare in tanti altri modi, una voce che sta dentro di noi, appunto, universalmente umana. Ecco. E questo significa che la felicità noi ce l'abbiamo qui, sulla terra. Ce l'abbiamo portata in mano, certo, ma ci stiamo dentro. Ce l'abbiamo, ce l'abbiamo, ce l'abbiamo, ce l'abbiamo, ce l'abbiamo, ce l'abbiamo. Ripeto, è una condizione originaria di Senatoli, no? Quindi ci stiamo già dentro. Infatti la percepiamo quando ci manca la felicità, no? La percepiamo nella sua assenza, no? Po' perché, altrimenti ci stiamo dentro naturalmente nella felicità. Va bene, quindi... Bene. Allora, vediamo adesso, in questa parte finale, abbiamo ancora pochi minuti, come possiamo mettere veramente insieme quel senso di gratitudine che ci farebbe piacere ritrovare molte volte nelle persone. Mi piace il tuo esempio rispetto a quando vai a prendere il caffè che uno ringrazia per il fatto che viene in grado. Certamente se il caffè per noi non è buono, il ringraziamento, diciamo, non è fuori luogo. Si diventa ipocriti poi, diciamo. Però, permettimi, di solito si ringrazia prima, quando viene servito. Quindi, come dire, è giudicato il grazie, ancora... Quindi? È assoluto, è assoluto, è incondizionato il grazie. Perché è un grazie al gesto, capito? Certo, quindi volevo dirti che è chiaro che questa forma di educazione di cui tu parlavi a volte è anche una modalità di coniugare l'educazione in un altro modo, cioè nel senso io sono educato, e quindi il fatto che le persone ti si rivolgono con garbo, che ti ringraziano per delle cose che stai facendo, indubbiamente crea nell'altra persona una risposta positiva, un'empatia, come la possiamo chiamare. Sì, una disposizione favorevole. Certo, e quindi è vero che l'attimo fuggente non è quello, tuttavia in quel momento è gradevole ricevere quel complimento, e quel tipo di gradevolezza che si ha in quel momento probabilmente fa felice la persona. Quindi io non parlerei della felicità semplicemente come un qualche cosa di grandissimo, di grandioso che noi possiamo sperimentare, e anzi sappiamo che è un po' più complicato raggiungere. Parlerei invece che tantissimi frammenti nella nostra vita possono concorrere a qualche cosa che potremmo anche definire come serenità, oltre che felicità nella persona. Ma che vanno incastonati in un tutto, ecco capito, questo dicevo quando parlo di abito, vanno incastonati in un tutto diciamo, no? Che è l'idea di quello che vogliamo essere. Questo richiede però che la persona abbia un processo sano, una persona che sia aperta agli altri, che abbia la capacità di ascoltare. Esatto, parlo di condizioni, è chiaro. Certo, se no, questo è un altro grande problema, essere felici, sentire felicità significa anche sapere ascoltare. Molta gente invece non vuole ascoltare, vuole soltanto essere ascoltata. Ti ho detto, perché in partenza noi non ascoltiamo la voce che sta dentro di noi, che parla dentro di noi, e quindi figurati se siamo capaci di ascoltare gli altri, se non prestiamo, se non ci auto-ascoltiamo. Certo. Ecco, volevo finire forse, perché manca pochissimo, perché te l'avevo preannunciato. Mi piaceva ricordare appunto un altro libro che è uscito l'altro anno, insieme a quello di Demetrio, perché sono usciti significativamente in contemporanea due libri sulla gratitudine. Il libro di Oliver Sacks. Ah, Oliver Sacks. Oliver Sacks, chi è stato? Perché è morto nel 2015, come sapete, un neurologo e uno psichiatra inglese, che ha scritto parecchi best-seller, tra l'altro appunto a partire da casi clinici di pazienti affetti da morbi neurologici, che aveva in cura. Ce n'è uno che tutti ricorderete, Risvegli, perché poi ne è stato tratto un film di grande successo. Ecco, allora, mi piace questo fatto che lui, nel 2015, viene a sapere, Oliver Sacks, di avere un male incurabile, di essere affetto da un tumore al fegato che gli lascia pochi mesi di vita, no? Quindi che cosa fa? Pensate un po', che cosa gli viene in mente di fare, nel poco tempo che ha a disposizione? Di scrivere un libro, di scrivere un libro testamento, di scrivere un libro rivolto ai suoi lettori, di congedo dai suoi lettori. Ecco, e lo intitola proprio Gratitudine. Ecco, e cosa si sente di fare in questo libro? Appunto, li mette a parte i suoi lettori delle riflessioni che conduce sulla soglia degli 80 anni, ma soprattutto si sente in obbligo di comunicare loro, no? Si sente caricato di una responsabilità, perché i lettori hanno fatto anche la sua fortuna, no? Essendo stato un autore di successo, uno scrittore di successo. Quindi si sente in obbligo di comunicare loro che a pochi giorni, gli mancano pochi giorni di vita. Ecco, e qual è il sentimento che esce fuori complessivamente? Quello della Gratitudine. Ecco, lui non si sente altro che di ringraziare, di dire grazie per la vita brillante che ha avuto, grazie per aver amato e per essere stato amato, grazie per aver dato e aver ricevuto tanto dagli altri. Ecco, quindi è significativo che, appunto, e allora questo, così posso finire anche con un'altra formula, Aristotele. Aristotele dice, è felice chi muore è felice. Bene, grazie Giuseppe D'Accunto, grazie per questo dibattito che ovviamente è una pillola rispetto a quello che noi potremmo affrontare sia per la gratitudine che per la felicità, significa che probabilmente dobbiamo riaffrontarli in maniera ancora più approfondita, magari in futuro. Grazie molto e grazie per aver partecipato, per aver ascoltato questo dialogo su gratitudine e felicità e ci vediamo la prossima puntata. Grazie a tutti.